Verga YouTube, questo è il video numero 6 della serie che sto realizzando dedicata a Luciano Di Zamosata. Sei video finora pubblicati ma in tutto sono una quarantina i video disponibili a favore delle studentesse e gli studenti dell'ultimo anno dell'Icio Classico. Sono video nella playlist Il Greco di Quinta che vogliono essere d'aiuto attraverso la traduzione guidata nell'approccio agli autori. Sono un pretesto anche per ricordare, per richiamare alcune regole di morfosintassi. Possiamo subito partire con questo bel passo che è una critica acerrima che Luciano rivolge a chi acquista libri ma in realtà resta ignorante perché non li legge. Il primo verbo è onese, riconosco una forma di futuro. Il verbo è oneo ma iscritto con l'omega iniziale significa comprare, acquistare, seconda persona singolare. E così anche crese è una seconda persona singolare, c'è il sigma, c'è l'eta con iota sottoscritta, una forma media, un indicativo futuro della forma media da hraumai che significa servirsi. Eisuden è un'espressione verbiale, altro verbo è katagelastese, riconosco un verbo composto. Il verbo è gelao, acquista un sigma nella formazione dell'auristo passivo e anche del futuro passivo. In questo caso abbiamo sia la zeta eta che il sigma, quindi ancora una seconda persona singolare del futuro passivo di katagelau. Ultima forma verbale, pepaideumenon, preceduto dall'articolo, è un participio che presenta il raddoppiamento, quindi si tratta di un participio perfetto medio passivo di paideuo. Possiamo anche azzardare una traduzione, direi. Tu infatti, onese, acquisterai, è sottinteso il complemento oggetto, ta biblia, i libri, ma di questo si parla, tu infatti acquisterai libri e non te ne servirai per nulla. Kai katagelastese e sarai deriso, pros con il genitivo vale come complemento da gente, da parte delle persone istruite. Le persone istruite, hois, e proseguiamo, alle quali questo apokre deriva da apokrao, che significa essere sufficiente, bastare. È una terza persona singolare, quindi alle quali basta. Ofeleisai, infinito presente, medio passivo da ofeleo, significa aiutare e nella forma passiva significa trarre vantaggio, e quindi alle quali basta, cioè le persone istruite, alle quali è sufficiente trarre vantaggio, non ec tus callus ton biblion, né ec tes politeleias auton, alla, questo è il corso dei pensieri, ec tes fones cai tes gnomes ton gegrafoton, altra forma interessante. Partiamo da gegrafa e identifichiamo la forma del perfetto di grafo, è un perfetto secondo, la forma che ho davanti, ton gegrafoton, è un participio perfetto attivo che è declinato al genitivo plurale ed è un participio sostantivato, quindi sarebbe la voce e il pensiero di coloro che hanno scritto, di coloro che li hanno scritti. Riformula questa seconda parte guardando anche ai significati, che non ho ancora preso in considerazione, allora dice che sarai deriso dalle persone colte alle quali è sufficiente trarre vantaggio non dalla bellezza dei volumi, né dal loro alto pregio, né dalla loro edizione di lusso si intende, ma dalla voce e dal pensiero di coloro che li hanno scritti. Il senso qual è? Il senso è che l'autore si sta rivolgendo ad un bibliomane ignorante, uno che ha la pazzia, la frenesia di acquistare i libri ma non se ne serve evidentemente per ricavarne vantaggio e allora dice che il suo destino sarà quello di essere deriso dalle persone istruite che non guardano al valore materiale dei volumi, qui esplicitato dalla bellezza o dal loro essere edizioni di lusso e quindi di pregio, ma le persone colte guardano alla voce e al pensiero di coloro che li hanno scritti. Sude oiei, quindi questo devo intenderlo come un oie con eta e iota sottoscritta, seconda persona media di oio che significa credere, terapeusein, sigma ein, infinito futuro, epicalipsin, ancora un infinito futuro da epicalipto, c'è il sigma che si è fuso con la labiale ed ein e la desinenza dell'infinito attivo e da ultimo ecplexain in cui riconosco ancora una forma di infinito futuro attivo, in questo caso il verbo di riferimento è epiplesso. Poi ancora uk eidos, forma di oida, è un participio perfetto terzo, oida è il perfetto terzo che ha una flessione particolare, poi abbiamo ancora poiusin che è un indicativo presente, terza persona singolare attivo, poi umenoi, sempre poieo, è il participio presente medio passivo, congiunto, evidentemente è il soggetto che è quassù, è oi amazestatoi ton iatron. Mi fermo su questo, amazestatoi è una forma di superlativo, l'aggettivo di partenza è questo, è un aggettivo composto, manzano è a prendere, amazè significa ignorante, quindi che non conosce ed è il soggetto di poiusin e adesso si unisce il poiumenoi come participio congiunto. Ritorno sopra, tu credi che cosa? Di zerapeusei cai epicalipsei ten apaideusian. Questo sostantivo significa evidentemente ignoranza perché è alfa privativo e paideuo che ha a che fare con l'educazione. I due verbi significano zerapeuo significa certo curare ma anche riparare, porre rimedio, epicalipto invece significa nascondere. Il senso è tu credi che porrai rimedio e nasconderai la tua ignoranza, l'ignoranza, con questa fama te doxetaute, con questa fama di acquirente dei libri e che stupirai epiplexein con la moltitudine dei libri. Ecco, questo è il pensiero del bibliomane ignorante che considera che porrà rimedio alla sua ignoranza, anzi la terrà nascosta e sballordirà gli altri con la semplice moltitudine, con l'alto numero, il numero elevato dei libri. ukeidos, non sapendo, è il participio congiunto al zi di sopra, non sapendo che, proposizione dichiarativa, cai oi amazestatoi, anche coloro che sono ignoranti fra i medici, poi usi in to autosoi. Interessante questo uso di autos, autè, autò, in posizione attributiva vale come idem, quindi non sapendo che gli ignoranti fra i medici fanno la stessa cosa che tu, cioè fanno la stessa cosa di te o si comportano alla stessa tua maniera. To autò vale come il medesimo, la medesima cosa e si accompagna a un zoico e un dativo associativo. Poiumenoi, poiché al medio, poieo nel senso di farsi fare, farsi fabbricare, poiché si fanno fabbricare, cioè si procurano che cosa? Narzekas elefantinus, che vale come astucci d'avorio, Zykias argiras, che sono coppette d'argento, e Smilas crisocoletus, che significa bisturi, che sono ornati d'oro, aggettivo composto. E quindi c'è questa affermazione, ma poi c'è un dè che esprime una direzione diversa del corso dei pensieri, opotam de, opotam è una congiunzione temporale, ma c'è dentro anche an, che dà l'idea dell'eventualità, opotam de, quando sia necessario, chresasai, infinito, auristo, medio, da kraumai, kraumai è servirsi col dativo, ma quando sia necessario servirsi di questo, oimen, essi, il verbo è isasin, che è una forma di oida, sapere, quindi il senso è udè, nemmeno sanno, essi nemmeno sanno, non sanno che cosa, metacheirizasai, è un infinito auristo, medio, da metacheirizzo, nel medio significa maneggiare, trattare, non sanno hopos, non sanno come bisogna maneggiarli. Ripercorriamo questa seconda parte in cui risulta che non sapendo, riferito al bibliomane, che anche i più ignoranti tra i medici, è un superlativo, non so se l'ho detto prima, fanno la stessa cosa tua, si comportano allo stesso modo, procurandosi, facendosi fabbricare degli astucci d'avorio, delle coppette d'argento e dei bisturi ornati d'oro, ma quando poi, ma quando è necessario servirsene, essi non sanno neppure come bisogna maneggiarli. E quindi c'è un paragone tra il bibliomane che si circonda di libri e che non frequenta nel senso proprio, ma ne fa soltanto sfoggio, e i medici che dispongono degli strumenti più pregiati, che sono d'avorio, d'argento e ornati d'oro, ma non hanno assolutamente idea di come se ne debbano servire. Questo era un testo molto interessante di Luciano che ci mette in guardia dal rischio di lasciare i libri chiusi, i libri vanno aperti, vanno studiati e non sono semplicemente uno strumento da esibire, non ha senso farne sfoggio, ma insomma, al di là delle considerazioni moralistiche, se il video ti è parso utile ti chiedo un like e sarei molto contento se tu riuscissi a condividere questi video con i tuoi compagni. Il Berga YouTube ha quasi 700 video a disposizione di italiano, latino e greco e quindi, se non sei ancora iscritto o iscritta al canale, puoi anche pensare di farlo. Intanto, buon lavoro!